La Peugeot 208 GTE by Peugeot Sport mette in mostra il suo DNA sportivo già al primo sguardo, con un design aggressivo e tagliente sviluppato dal reparto corse del Leone per enfatizzare il dinamismo della hot hatch francese. Anche senza la particolare verniciatura bicolore Coupe France disponibile a richiesta, la 208 GTE by Peugeot Sport si riconosce per una personalizzazione estetica che di certo non la fa passare inosservata. Cerchi in lega da 18 pollici di colori nero opaco che fanno intravedere l'impianto frenante maggiorato, codolini passaruota, calandra dal design specifico e totale assenza di cornici cromate. Al posteriore il trattamento by Peugeot Sport prosegue con un nuovo doppio scarico gemellato a sezione tonda e uno spoiler più pronunciato. Ma non è tutto, il reparto corse della casa del Leone non ha tralasciato gli interni che nella variante più estrema della piccola 208 strizzano l'occhio al mondo delle competizioni grazie a sedivi sportivi Peugeot Sport con poggiatesta integrato, rivestimenti morbida alcantara, teppe e tessuto. Al posto guida si nota una pedaliera sportiva che insieme al volante di dimensioni ridotte e il vestito in pelle traforata con impunture rosse invita il guidatore a scoprire le prestazioni della 208 più estrema della gamma.